L'Inter per me è famiglia, perché tutta la mia famiglia è interista e ho dei ricordi meravigliosi allo stadio di quando ero piccola. Quello che mi piace di Milano è la sua versatilità, un bel melting pot internazionale. Non a caso io sono interista. Per lavoro giro tanto, mi capita di passare dei lunghi periodi anche in altre città europee, anche oltreoceano, ma la città dei miei sogni continua ad essere Milano. È la mia dimensione, mi sento a casa, tutto funziona e penso che vivrò per sempre a Milano. C'è solo una parola che voglio dire sull'Inter. Amala. Milano siamo noi.